Partirà ad ottobre anche da Pistoia la sperimentazione dei nuovi PIR, i presidi di intervento rapidi istituiti dalla Regione Toscana per dare una risposta ai problemi di salute non gravi dei cittadini. Il PIR pistoiese sarà creato all'interno della Casa di Comunità del Ceppo. Nelle nuove strutture, per un primo periodo di sei mesi, opereranno medici ed infermieri che lavoreranno in rete anche con il personale del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Ospedale San Jacopo e di medici di famiglia. Servizio che sarà attivo 12 ore al giorno. Gli operatori dei PIR potranno contare su strumentazioni come apparecchiature per l'ammisurazione dei valori di emoglobina, test rapidi ed ecografi per dare una prima risposta ai bisogni dei pazienti. Nell'elenco diffuso dalla Regione dei casi che potranno essere presi in carico, otiti, riacutizzazioni di malati cronici, ferite superficiali non da suturare, distorsioni del piede o fratture di un dito, contusioni, punture ed insetti. Un servizio che, ha spiegato il Presidente della Regione Eugenio Gianni, rappresenta una nuova frontiera per le patologie acute dei cittadini che, in casi minori, anziché rimanere in coda per ore ai pronto soccorso, potranno essere curati velocemente. L'accesso alle nuove strutture, la sperimentazione sarà effettuata anche ad Empoli, Prato e Firenze, avverrà sia su indicazioni dei medici di famiglia che degli specialisti che rispondono al numero di continuità assistenziale 116, 117 o direttamente a seconda della tipologia dei vari PIR.